Le uova prodotte o vendute in provincia di Ragusa non sono a rischio. I controlli eseguiti non hanno segnalato alcuna contaminazione. Negativi test sul fibronil avviati dall'ASPE DAI NASTA, anche prima della direttiva del Ministero della Salute. Gli effetti negativi della legge 107 hanno portato in piazza tantissimi docenti costretti a migrare al nord. In due anni nessuno è rientrato. I sindacati parlano di problema politico. La sanità di Ragusa è stata al centro di numerose critiche per due motivi in particolare. Neonati morti, tre in un solo mese, al Guzzardi di Vittoria e per la mancata inaugurazione del nuovo ospedale di Ragusa. Giovanni Paolo II. Ficarra fa le sue valutazioni. Autobus turistici scoperti per scoprire le bellezze architettoniche di Ragusa e Ibla. Cicli e modi che prima corsa ieri pomeriggio del Baroque Tour Bus dopo il taglio del nastro è avvenuta in piazza odierna. Buon pomeriggio ancora, ben trovati a questa nuova edizione di MTG. Dalla provincia di Ragusa arriva una notizia positiva per quanto riguarda le uova commercializzate che non sono a rischio. I controlli eseguiti finora non hanno segnalato alcuna contaminazione. Negativi dunque i test sul Fipronil avviati dall'ASP e dell'ASP anche prima della direttiva emanata dal Ministero della Salute. Tuttavia i controlli continuano ad essere eseguiti. Facciamo il punto nel servizio di Carmela Minardo. I controlli sono cominciati appena si è diffuso l'allarme anche nel territorio nazionale, ben prima che il Ministero della Salute emanasse una specifica direttiva. I tecnici dell'azienda sanitaria provinciale e i carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno passato in rassegna campioni significativi delle uova prodotte o commerciate nell'area eblea. Nel Modicano peraltro esiste il più importante polo di produzione avicola del sud, con oltre un milione di uova prodotte al giorno. Il test sulla positività al Fipronil è stato finora totalmente negativo. Quattro i campioni prelevati in altre tante aziende sul territorio provinciale. Il Fipronil, nome commerciale del fluociano ben pirazolo, è un insetticida usato in veterinaria contro i parassiti degli animali domestici, pulze, zecche, pidocchi e acari, ma vietato in tutta l'Unione Europea negli allevamenti di animali della catena alimentare. È probabilmente finito in una partita di uova in occasione dell'applicazione di un trattamento in qualche impianto produttivo. Il prodotto spruzzato sulle lattiere avrà raggiunto il pollame, contaminandosi la carne che le uova. Nelle ultime ore si è rivelato positivo un test in un'azienda marchigiana di produzione di pasta fresca, ma il polo avicolo e bleo e l'intera filiera commerciale nel territorio risultano totalmente immuni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, anche sulle merci e sui prodotti semilavorati in entrata e ciò dovrebbe impedire ogni possibile futuro rischio di contaminazione. Il fibronil è una sostanza tossica, ma la sua pericolosità è proporzionale alla quantità che si dovesse ingerire. In proposito, i casi finora riscontrati in Italia presentano un tasso di concentrazione di 0,033 mg per kg, inferiore a quello che fa scattare la tossicità acuta, fissata dagli esperti a 0,72 mg per kg, un valore oltre 20 volte superiore. Nei casi più critici gli effetti possono essere dolori addominali, nausea e vomito. In quantità maggiori può provocare danni ai reni, al fegato e alla tiroide. Si tratta comunque di sintomi che nelle forme meno gravi sono reversibili una volta terminata l'esposizione alla sostanza. La reale intossicazione insomma avverrebbe solo con l'assunzione di quantità elevate. In questo caso il medico consiglierà di usare una lavanda gastrica, un purgante salino o carbone attivo. Ma in provincia di Ragusa finora nessun rischio neanche lieve. E adesso parliamo della legge sulla buona scuola o per meglio dire degli effetti negativi della legge 107 che hanno portato in piazza tantissimi docenti costretti a emigrare al nord. In due anni nessuno è rientrato. Una situazione caotica determinata da algoritmi cinici e inutili. Oggi l'abbiamo parlato anche con i sindacati che hanno definito il caso un problema politico. Sentiamo il servizio. La 107, la legge della cosiddetta buona scuola, ha prodotto effetti devastanti costringendo i docenti precari ad una migrazione forzata anche in età matura verso il nord per essere stabilizzati. Una legge che per i sindacati ha prodotto effetti negativi come la chiamata diretta. Un piano straordinario delle emissioni in ruolo che ha prodotto l'inevitabile esodo verso il nord Italia di tutti i precari che prima erano al sud. Nonostante i sindacati abbiano ottenuto un aderogo al vingolo triennale, ad oggi nulla è cambiato. Tanto che nei giorni scorsi i sitin di docenti si sono tenuti davanti agli ex provveditorati. Il problema è di natura politica, affermano le sigle sindacali. Il problema è un problema di natura politica. Cioè nel meridione mancano i posti che consentirebbero a tutte queste persone di rientrare. Il che significa che dovremmo avere il tempo pieno. Il che significa che dovremmo avere un organico adeguato al fabbisogno reale delle nostre scuole. Quindi è difficile trovare la soluzione a un problema che è prevalentemente di natura politica. Per i sindacati le problematiche da affrontare sono tante. L'anno scorso non c'è stata nessuna emissione in ruolo. Non era pensabile, ipotizzabile che anche per quest'anno non si procedesse alle emissioni in ruolo che sono state fatte nella misura del 50% per i vincitori di concorso del 2016 e il 50% per quelli che sono inseriti nelle gradatorie di esaurimento provinciale. Così come dice la norma. È stato comunque ottenuto qualcosa in più rispetto alla normativa per quanto riguarda i docenti che sono bloccati nel Nord Italia. Perché la norma prevede che a questi docenti venga assegnato solo il 25% dei posti disponibili a livello provinciale. Siamo riusciti a portarlo dal 25% al 30%. Abbiamo sollecitato ieri al Presidente della Regione la richiesta di incontro con la Ministra per poter ragionare in termini di mobilità anche temporanea perché se qui abbiamo 5.000 posti in deroga del sostegno che l'anno scorso sono stati concessi non capiamo perché quest'anno non dovrebbero essere riconcessi a questi stessi docenti. Darebbe continuità, darebbe comunque una prospettiva per poi riorganizzare la scuola dell'arco di un anno. Non si può lavorare né sui ragazzi né sui docenti in periodi di campagna elettorale sfruttando la necessità per fare politica e altro clientelismo. Parliamo adesso di sanità. La sanità ragusa che è stata al centro di diverse critiche per due motivi in particolar modo. Il primo è quello dei neonati morti 3 in un solo mese all'ospedale Guzzardi di Vittoria e il secondo è quello della mancata inaugurazione del NOR, il nuovo ospedale di Ragusa, il Giovanni Paolo II, sia anche per le inchieste aperte dalla Procura per alcune irregolarità riscontrate anche negli impianti di climatizzazione. Noi su questi due casi abbiamo anche sentito il commissario dell'ASP 7 di Ragusa, Salvatore Lucio Ficarra. Sentiamo cosa ha detto. Il 21 luglio muore una neonata poco prima del parto all'ospedale Guzzardi di Vittoria. La mamma è una 28enne alla sua prima gravidanza. La famiglia sporge e denuncia. La Procura apre un'inchiesta scrivendo nel registro degli indagati i 13 medici. Viene disposta l'adopsia sul corpicino. La magistratura vuole accertare se c'è stata in perizia. La gestante aveva accusato dolori lancinanti all'addome ma era stata sottoposta al classico tracciato. La neonata è morta soffocata dal cordono medicale. La giovane mamma avrebbe dovuto essere monitorata anche con l'ecografia che avrebbe dato informazioni in più sul quadro clinico della neonata. Questo è il sospetto degli inquirenti. Il 7 agosto finisce male nello stesso nosocomio un parto gemellare. Uno dei due neonati muore. Secondo i medici dell'ASP rientra nella casistica. Il 23 agosto muore un altro neonato per deficit di crescita. Si giustificano i medici del nosocomio a Vittoriese. In questo caso l'azienda sanitaria ha aperto un'indagine interna. Tre neonati deceduti in un mese nello stesso ospedale è un dato allarmante che il commissario dell'ASP Salvatore Lucio Figara giustifica in alcuni casi come rientranti nella casistica. In altri sa perfettamente che se ci sono responsabilità mediche si devono adottare relativi provvedimenti. Ci vogliono degli specialisti che debbono andare a verificare se si tratta di una responsabilità medica o di un evento non prevedibile che comunque non rientra fra i casi di colpa grave contemplati dall'attuale normativa vigente. Purtroppo statisticamente sono cose che accadono. Se invece si individuasse la responsabilità degli operatori allora già sono tutti super allertati per procedere a prendere gli atti conseguenziali e la messa in sicurezza. Oggi però non mi sento di dire che già ci sono dei responsabili. Occhi puntati anche sulla partura dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Un intertormentato da inchieste e continui ritardi. I locali da qualche settimana di sequestrati devono ancora essere messi a norma prima che l'ASP presenti la scia e il certificato di inizio attività. Per scaramanzia visto quello che è accaduto noi date non le diamo. Vi possiamo dire che però fin da subito sono stati emanati gli avvisi per coprire i turni di portineria H24 dell'ospedale in maniera tale che l'ospedale venga tenuto sempre sotto controllo. Abbiamo chiesto i permessi alle autorità competenti per poter definire le questioni. ottenuti questi permessi inizieranno dei lavori che non sono comunque riteniamo dei lavori lunghissimi per eliminare quelle non conformità che sono state accertate dall'autorità. Dall'apertura del Giovanni Paolo II ne ha parlato ancora il commissario Ficarra in un incontro che è avvenuto ieri pomeriggio voluto dal deputato regionale Nello Di Pasquale e dal segretario del PD Aragusa Peppe Calabrese. Sono emerse anche importanti novità per l'ospedale Busacca di Scicli che dal primo ottobre diventerà un PTE, un presidio territoriale di emergenza con l'ambulanza medicalizzata. Per tutti i dettagli sentiamo Giada, Giacquinta. Novità in arrivo nella sanità Iplea. Al presidio ospedaliero Busacca di Scicli dal primo ottobre sarà avviato un nuovo servizio di ambulanza medicalizzata. Questo è quanto comunicato in una nota stampa dall'ASP di Ragusa in ragione di quanto previsto dal piano della rete regionale dell'emergenza. Il presidio territoriale d'emergenza si avvarrà del personale medico dell'emergenza territoriale attualmente in forza al presidio sanitario del nosocomio di Scicli. Una scelta condivisa con l'amministrazione comunale ha dichiarato il commissario dell'ASP Ficarra che si indirizza nell'ottica di realizzare un significativo miglioramento della qualità dell'assistenza diretta a partire dalla gestione dell'emergenza territoriale con la possibilità di aumentare l'appropriatezza delle prestazioni erogate. Un servizio, continua Ficarra, atteso dalla comunità sciclitana perché ne ravvisa un chiaro miglioramento dell'organizzazione sanitaria. Intanto il deputato regionale Nello Di Pasquale ha incontrato il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra una visita delle finalità specifiche in cerca di un confronto sulla questione riguardante l'apertura dell'ospedale Giovanni Paolo II. Lo rende note in una nota stampa il segretario dell'Unione Comunale del PD di Ragusa, Peppe Calabrese presente anche egli all'incontro. Il dottor Ficarra dichiara la nota nel corso dell'incontro ha sottolineato che il 95% delle procedure è stato definito prima di avviare l'iter che porti alla definitiva apertura del nuovo ospedale. Calabrese nella nota aggiunge come Ficarra abbia fornito delle rassicurazioni sulle misure di sicurezza adottate per evitare che la struttura di Contrada Punta Razzi finisca preda dei vandali o dei ladri chiarendo che è stato istituito un servizio di guardiani notturno e diurno e che quindi sul fronte sicurezza non dovrebbero registrarsi i problemi di sorta. Inoltre la nota prosegue il PD, sottolinea il segretario calabrese intende seguire questa vicenda da vicino e vuole essere tenuto in debita considerazione fermo restando che la sanità viene prima della politica e che quest'ultima non deve assolutamente condizionare scelte di fondamentale importanza per la salute dei cittadini. La nota prosegue non dimentichiamo che il nostro partito con l'onorevole Di Pasquale ha seguito la vicenda da molto vicino ottenendo il finanziamento di 8 milioni di euro per il completamento e sbloccando le procedure dell'Urega. Inoltre Calabrese nella nota aggiunge visto che ci stiamo approssimando a una serie di scadenze elettorali non permetteremo a nessuno di fare prevalere considerazioni di carattere elettoralistico conclude Calabrese. Abbiamo accolto con estrema soddisfazione la piena disponibilità fornita dal manager, dal commissario dell'ASP 7 non manager, Savosore Lucio Ficarra al sindaco di Vittoria Giovanni Moscato che in visita assieme al presidente del Consiglio Andrea Nicosia ha rappresentato ancora una volta ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale le richieste dell'intera collettività vittoriesa. Dichiararlo sono i consiglieri comunali di sviluppo Ibleo Daniela Pino Gaetano Motta e Biagio Pelligra dopo l'incontro che si è svolto ieri mattina a Ragusa. Speriamo che questa adesso possa essere la volta buona per una definitiva svolta riguardante il rilancio dell'ospedale Guzzardi di Vittoria più volte in passato anche attraverso il vice sindaco Andrea Larosa erano state sollecitate delle misure specifiche per colmare le lacune esistenti ma evidentemente il precedente manager non ha ritenuto opportuno intervenire così si legge appunto in conclusione nella nota dei tre consiglieri di sviluppo Ibleo. La giunta municipale di Pozzallo ha approvato il nuovo capitolato speciale d'appalto e le procedure di gare per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il sindaco Ammatuna definisce l'approvazione un atto importante che comporterà un sensibile risparmio in virtù dell'abbassamento dei costi per il comune per lo smaltimento dei rifiuti in discalica. La giunta municipale di Pozzallo ha approvato il nuovo capitolato speciale d'appalto e le procedure di gara per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Entro la fine di quest'anno dichiara il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna saremo in grado di affidare il servizio che produrrà miglioramenti nella gestione e cura dell'ambiente cittadino e un sensibile risparmio della bolletta per gli utenti. Ammatuna lo definisce un atto importante. L'amministrazione comunale si è insediata a metà del mese di giugno e uno dei suoi primi obiettivi era quello di dare una nuova organizzazione e disciplina ai servizi di igiene ambientale per garantire la sicurezza della salute pubblica e assicurare la tutela igienico-sanitaria della città di Pozzallo. Inoltre ciò comporterà un sensibile risparmio in virtù dell'abbassamento dei costi per il comune per lo smaltimento di rifiuti in discarica ma non solo sarà possibile realizzare dei risparmi economici al fine di sgravare l'utente dei costi eccessivamente alti che l'attuale canone del servizio di nettezza urbana impone e interrompere il regime di proroghe che dura da lungo tempo. Il 4 settembre prossimo come scritto nella nota scadrà l'ennesima proroga e ve ne sarà un'ultima di brevissima durata per consentire lo svolgimento degli adempimenti tecnici per la nuova gara di appalto che comunque abbiamo già avviato strumento di gestione del servizio prevede la tariffazione puntuale un sistema di calcolo della tariffa su rifiuti prodotti da ogni singola utenza si pagherà in relazione ai rifiuti indifferenziati realmente prodotti un fatto che rappresenta un cambio di marcia verso una più attenta responsabilità verso l'ambiente che bandisce gli sprechi e introduce un principio di equità con le altre utenze domestiche quali gas acqua e luce ovvero ciascuno paga per quel che consuma parliamo ancora di rifiuti con una campagna di sensibilizzazione ieri sera a lungomare di Marina di Modica che parte da dieci giovani i ragazzi hanno raccolto tutti i rifiuti sparpagliati tra la spiaggia gli scogli e i vialetti e hanno dato vita ad una denuncia d'effetto ce ne parla Marco Scavino hanno scelto di impiegare due ore del loro tempo a raccogliere tutti i rifiuti disseminati tra gli scogli i viali adiacenti al litorale e la spiaggia di Marina di Modica li hanno ammucchiati a lungomare Buonarroti e hanno dato così vita ad una campagna di sensibilizzazione che sicuramente è stata d'effetto e quanto fatto da dieci giovani modicani che hanno fondato una pagina su Facebook dal nome Modica Innovazione Sociale e ieri hanno scelto di sensibilizzare i modicani con un'installazione cumuli e cumuli di rifiuti abbandonati raccolti e circondati da manifesti che leggendoli fanno riflettere quanto a volte noi stessi siamo causa del nostro male tanta la gente incuriosita che ha chiesto di cosa si trattasse e che si è complimentata con i giovani che si sono impegnati affinché un normale pomeriggio estivo diventasse punto di partenza per un cambiamento concreto un'inversione di marcia reale troppo spesso non si pensa alle conseguenze di quanto quel mozzicone di sigaretta o quella busta di plastica possano costituire principio di distruzione del nostro ambiente oggi pomeriggio abbiamo raccolto un po' eravamo un gruppo di dieci persone abbiamo raccolto un po' di immondizia rifiuti sia sugli scogli che in spiaggia un po' nei dialetti qui di Maria di Modica abbiamo collezionato tutto quello che un po' avete visto l'obiettivo principale è quello di sensibilizzare le persone in materia riguardo all'ambiente perché le Nazioni Unite ci dicono che dobbiamo cominciare a mangiare meno pesce perché inquinato meno tonno soprattutto i pesci grandi e quindi nel nostro piccolo credevamo di poter fare qualcosa l'appello è il buonsenso direi io è la consapevolezza nel senso che con una metafora potremmo dire che per costruire un pezzo di vetro c'è bisogno di tanto tempo mentre invece per distruggerlo ci vuole veramente pochissimo ed è quello che praticamente abbiamo fatto noi come umani soprattutto negli ultimi 60 anni la polizia municipale ha preso atto di questa installazione qui a lungomare Buonarroti cosa vi ha detto? sì sono venuti prima una coppia e poi un'altra e ci hanno fatto i complimenti i giovani che hanno fondato la pagina su facebook sono tutti studenti fuori sede ma originari di Modica che hanno voluto sottolineare come sia importante che tutti contribuiscano al cambiamento perché anche se è scontato lo ribadiamo per chi non lo avesse ancora appreso è per tutti il nostro pesce le nostre coste la nostra terra meritano rispetto meritano di essere tutelate e curate da noi perché il mare gli animali non possono difendersi le iniziative di Modica IS innovazione sociale continueranno e i ragazzi invitano a mettere mi piace sulla pagina facebook ufficiale per essere sempre aggiornati operazione congiunta contro l'abusivismo commerciale tra la polizia locale e la guardia di finanza a Modica i controlli ieri sono iniziati intorno alle 19.30 per concludersi a mezzanotte gli esercizi commerciali controllati sono stati nel centro cittadino e a marina di Modica nella frazione marinara un ambulante è stato sanzionato per non aver messo lo scontrino e per avere occupato abusivamente il suolo pubblico controllati tutti gli autobar sul lungomare Bonarroti ma installati in piazza Donatello anche in città sono stati sanzionati alcuni esercenti che occupavano il suolo pubblico in forma superiore rispetto all'autorizzazione rilasciata dall'ufficio tributi del comune controlli congiunti contro l'abusivismo commerciale anche a Pozzallo nel lungomare Pietro e Nere e Raganzino sono stati effettuati sequestri di oggettistica varia e di prodotti contraffatti di note marche l'operazione ha visto la partecipazione di uomini della Guardia di Finanza dei Carabiniani della Polizia di Stato della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale questo comando dichiara Nicola Colombo comandante della Polizia Locale sta facendo un grande sforzo in collaborazione con le altre forze di Polizia per combattere l'abusivismo commerciale e attuare i servizi di controllo del territorio i risultati sono soddisfacenti e anche il sindaco a Matuna si è complimentato per i risultati c'è una breve pausa pubblicitaria tra poco Ancora ben trovati in diretta l'anno scolastico sta per cominciare ma la caccia al libro più economico è aperta da mesi per molte famiglie l'acquisto dei libri di testo può incidere fortemente sul budget così inizialmente si punta sui testi usati e solo a settembre iniziano a ordinare i libri nuovi Conto alla rovescia per il primo giorno di scuola che per tutti gli studenti siciliani sarà giorno 14 settembre nel frattempo oltre a fare i conti con il rientro le famiglie iniziano a fare anche i conti con il costo dei libri e corredo scolastico per quest'anno il Codacons ha calcolato un rincaro medio del 2,5% con un picco del 3,9% per il corredo scolastico stimando una spesa annua di oltre 500 euro a studente tuttavia secondo un'indagine di Silconf esercenti in merito nonostante la ripresa dei prezzi la spesa media per il 2017 non è aumentata abbiamo intervistato un libraio locale rappresentante dell'associazione Librae Italiani per capire quanto abbia fondamento lo spauracchio del caro Libri sta aumento io onestamente non lo vedo proprio gli aumenti che fanno gli editori che normalmente si aggirano sul tasso di inflazione che c'è stato nell'anno precedente poi a questo c'è da considerare comunque sempre il tetto massimo la sommatoia dei libri da acquistare non può superare una certa cifra la spesa media per uno studente di scuola media si aggirerà intorno ai 300 euro per uno studente di scuola superiore a seconda dell'indirizzo scelto può variare dai 300 ai 320 euro escluso il corredo scolastico che il signor Cascone definisce a discrezione delle possibilità delle famiglie c'è tutto per tasche differenti inoltre il presidente provinciale dell'Ali Cascone la cui attività di libraio è iniziata nel 1980 sottolinea come nel corso del tempo sia cambiato il metodo di lavoro adattandosi all'esigenza dei consumatori come ad esempio l'incremento negli ultimi dieci anni dell'acquisto di libri usati complice anche la crisi che ha spinto molte famiglie anche chi da sempre ha acquistato i libri nuovi a virare verso l'acquisto di libri usati con un notevole risparmio l'allargamento al mercato dell'usato per molte librerie rappresenta un modo per mitigare il colpo incassato dall'avvento dell'e-commerce con la sua scontistica aggressiva sui libri se non puoi batterli nel prezzo li devi contrastare nei servizi è così che Cascone evidenzia come ancora al sud sia poco diffusa l'inclinazione all'acquisto fai da te sui grandi portali perché senza la guida di un libraio è facile incappare nell'oro effettuando ordini online il rischio è quello di una perdita di soldi e di denaro sul discorso delle cedole emanate dalla regione Cascone ha dichiarato come se da un lato queste permettono alle famiglie di risparmiare dall'altra spesso rappresentano un problema per i librai che anticipano il denaro dell'acquisto e attendono tempi lunghissimi per i rimborsi della regione autobus turistici scoperti per scoprire le bellezze architettoniche di Ragusa Ibla Modica e Scicli prima corsa ieri pomeriggio del barocco tour bas dopo il taglio del nastro avvenuto in piazza odierna a Ibla è partito da piazza Giambattisto odierna l'autobus turistico barocco tour bas dopo il consueto taglio del nastro da parte del sindaco Federico Piccitto due i pullman scoperti per visitare le bellezze architettoniche di Ragusa Modica e Scicli per altrettanti diversi itinerari uno solo per la città capoluogo e il quartiere barocco corsa che sarà effettuata anche in notturna l'altro parte da Ragusa per arrivare a Scicli attraversando i principali luoghi di attrazione dei tre comuni è un progetto su cui lavoriamo da parecchio tempo abbiamo fatto autorizzare dalla regione con la nostra specifica richiesta il percorso un percorso turistico all'interno della città questa è la competenza che abbiamo avuto noi poi ovviamente la ditta che si è giudicata e ha vinto questa gara manifestazione di interesse che il comune ha fatto qualche mese fa ha anche ritenuto opportuno credo anche in maniera molto intelligente e utile collegare oltre a Ragusa anche le altre città Modica e Scicli e quindi fare un percorso un po' come quello che già fa anche sull'ambito di Agrigento quindi della Valle dei Tempi è un servizio che ripeto mancava in città e sono segni concreti e tangibili del fatto che stiamo facendo progressi in ambito di quella che è la promozione turistica e i servizi che ai turisti possiamo rendere Due Linee e un commentario in cinque lingue per scoprire le città più belle della provincia di Ragusa a giorni arriverà anche il commentario in cinque lingue quindi per tutti i turisti e tutte le lingue almeno quelle basi le linee sono due una linea comunale voluta fortemente dal comune di Ragusa e una linea turistica che collega le città di sci climodica con Ragusa Il servizio di autolinea è stato autorizzato dall'assessore regionale infrastrutture e mobilità a seguito della stipula di un'apposita convenzione tra i tre comuni e la SAIS Trasporti società che in atto espleta il servizio di trasporto pubblico locale in ambito regionale i biglietti avranno durata da uno a tre giorni grazie ai bus scoperti si potenziano i collegamenti fra le tre città UNESCO della provincia di Ragusa in un percorso virtuoso di rafforzamento dell'identità turistica dei loro centri storici Il Lions Club di Modic presenta Ticuntum Cuntu uno spettacolo itinerante con i testi del giornalista Giorgio Buscema stasera alle 20.30 nelle stradine dell'antico quartiere ebraico del cartellone di fronte a San Pietro nell'arco della salita dei Barbieri la compagnia teatrale di Alessandro Sparaccino imitando i contastorie medievali faranno rivivere la storia e le tradizioni dell'antica contea di Modica l'iniziativa è del Lions Club realizzato per celebrare i 50 anni della fondazione del Lions e per promuovere la campagna di vaccinazione dei bambini in Africa contro il morbillo una iniezione una vita che consente con un vaccino di salvare la vita di un bambino voltiamo pagina due mesi di intense attività sportiva il Camerina Beach Sport a Scoglitti ci attesa domani questa sera per le semifinali e domenica per il Final Day quando è prevista una massiccia partecipazione sulla riviera a Cammarana si scaldano i motori in vista del Final Day Camerina Beach Sport a Scoglitti previsto domenica 27 luglio le squadre dalle 12 discipline sono agguerrite per contendersi il posto più alto del podio ieri sera si sono disputati tre dei quarti di finale in programma la protagonista è stata la tecnica nel primo match i soci regolano la pratica vittoria a Tometos con un agevole 8 a 3 il match scorre regolarmente ma da avere la meglio sono i più quotati avversari dei soci che conquistano la semifinale nel secondo quarto sfiga tra Tori Rossi e Beach opposti alla Paint due reti spettacolari d'ambo le parti Tori Rossi vincono per possesso di palio e alla fine riescono a portare a casa l'intera posta in palio Tori Rossi vincono con il punteggio 6 a 3 i ragazzi del centro sportivo AIB riescono a vincere contro l'Edil Bradil grande prova di giudice e domicolo che prendono in mano la propria squadra riuscendo a portarla fra le prime quattro del torneo nel sorteggio tradizionale per le semifinali la sorte ha deciso i seguenti match centro sportivo AIB contro Tori Rossi Beach stasera semifinale di Beach Soccer con i soci contro Lina Verde o Gladiatori e fra Lina Verde contro Gladiatori e poi c'è il calcetto 4 contro 4 mercoledì scorso si sono disputati i quarti di finale i torri Rossi Beach sono riusciti ad avere la meglio sulla comunità valdese solamente nell'ultimo parzione di gara vincendo per 9 a 5 vittoria per i campioni in carica della Lina Verde un 3 a 2 finale contro un'ottima imprese di Leganizzaro che non ha mai mollato fino al triplice fischio il Centro Sportivo AIB ha conquistato il pass per i quarti di finale battendo i Bulls Vittoria Pack per 6 reti a 3 e Gladiatori accedono ai quarti di finale battendo 3 a 0 la Via Mediterranea da ieri si sono a Monte Rosso Almo i festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista da oggi e fino al 2 settembre si trarà il novenario domenica speciale appuntamento con la Sagra del Pana il clou delle celebrazioni quello di domenica 3 settembre la festa di San Giovanni Battista ha riferito l'arciprete Don Marco Diara è un momento di straordinaria intensità per la grande devozione che la comunità Monte Rossana nutre nei confronti del proprio patrono è anche un modo per creare dei piacevoli momenti di aggregazione che ci permetteranno di apprezzare ancora di più lo stare insieme all'insegna della tradizione e del santo precursore nessuno spettacolo pirotecnico sarà più autorizzato dagli uffici comunali in via sulla Ispica nonostante sia ritenuto un sito idoneo dalla commissione provinciale per le sostanze esplodenti ho ascoltato tantissimi cittadini ha dichiarato il sindaco del comune di Ispica Pierenzo Muraglia residente e non del quartiere interessato ritengo opportuno procedere a individuare un sito alternativo che sia rispettoso dei diritti e dei bisogni di tutti con buon senso e saggezza riusciremo a conciliare le esigenze dei cittadini a concluso la nota del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglia è davvero tutto per questa edizione mpg torna alle 20.30 grazie come sempre per averci seguiti e buon proseguimento